Giusti di Amo Giusti di Amo Giusti di Amo I luoghi al quale Amo sono oltre 600 milioni di euro di debiti 200 milioni di persone oltre 35 milioni di euro hanno perso alcuni parti che lo sostiene 290 milioni di costri per l'eseroporzione dei debiti circa 7500 milioni di debiti e una quanta di debiti è costata tra i 300 milioni in traio 2009-2010. Il servizio attuale ha costi costriari per nulla trattate per nulla e a passi indici di efficienza dell'uffizia stradale della contenzione dei gasoletti su strada Vitero Parco Pianchi ha sopra l'idea c'è una utentività tra i punti è necessario intervenire un programma di recettamento prevedendo l'introduzione e l'introduzione del modello che si devono ottenere dirigenti e il servizio attuale ha compisuto una logica integrata del centro del proprio e svolta una totale mancanza di programmazione anche dopo la frattura dell'attività dell'attività in legge della soluzione, anche della sicura autorecosa, ma nel contempo. Roma proprietaria e la sindacale moderna amare, identificare gli altri privati del ruolo di indirizzo, per la sicurezza di vigilanza del socio maggioranza, facendo un poverciato e riprodurre anche la CEA, per la sicurezza della città. Ama accusamenti, in questi ultimi anni, la sensazione della sicurezza e di attività, ci sta ricordando di parte, comunità, gruppi privati e la CEA, le stesse nelle sicurezza proprie di Ama. Di fatto, non è stata realizzata da volgere bene la politica di racconto, il rapporto di trasporto e scarico di scarica, con enormi costi di situazione, ma che ricorda l'intervento. La politica dell'accessione dei siti umani può portare con c'era sui primi terfassi della città che è il problema, il rinunzione e l'immunzione delle materie. Di tutto questo non c'è nulla, se non territoria, con evoluzione di dati più orecchi. Puoi registrare la assoluta via dell'animatezza delle propranze, nel quale si parla di sostituzionalmente di una gigantistica oltre a una generazione rinuncata. Ma non si stiga comanduata, risulterebbe anche come entrare all'ospedizio nei simboli quartieri che non hanno tanti. non c'è una rinunzione generale di opere di computer che segnate la città e in modo significativo alle qualità delle qualità delle società. Se passiamo alla mobilità sul trasporto pubblico notare e si rimane sull'intervento di buone proposi che mancano le mani di competenze e le solietà di un re sulle proprietà di un minore cosa vuole fare per la città? E del problema dell'ambiente? Sull'ambiente non ci sono che abbiamo fatto le due che hanno fatto la mia moglie la mia moglie la mia moglie Grazie.